Ciao internet, oggi parliamo di Monica Cirinà, di Dramatis Persone, del perché sono una persona orribile sui social e quarto del come si può distruggere una reputazione in modo, non dico irreparabile, ma in modo che ci darà davvero tanto da fare per i prossimi anni e anni in pochi secondi di sbadataggine facendo cadere una maschera. Io sono Matteo Flora, faccio questo di lavoro, mi occupo di reputazione e questo, beh, questo è Ciao internet. Ciao internet, bentornati, buone vacanze, è la prima puntata che facciamo vera e propria dopo la pausa estiva e ci vedrete un paio di cambiamenti nella grafica ma tranquilli. Oggi parliamo di Monica Cirinà, ma prima devo partire da un altro punto di vista, devo partire dal perché sono una persona orribile sui social, se mi conoscete sui social vedete che non ho filtri, che se devo dire cavolate le dico, se devo esternare un'opinione la dico senza stare molto a pensare alle conseguenze su di me, perché tutto questo? È una delle discussioni che faccio più spesso con i miei amici, mi dicono Matteo ci vorrebbe così poco per te per fare in modo di indossare una maschera e sembrare una persona molto più carina e coccolosa, probabilmente mi darebbe anche molte più chance sia nella vita professionale che nella vita social di tutti i giorni. Indossare una maschera fa in modo che tu diventi quel personaggio che le persone vogliono ascoltare, in cui le persone si riconoscono, dai quello che la gente vuole nel ruolo in cui tu ti trovi. E perché non lo faccio allora? Principalmente perché ho paura. Di che cosa ho paura? Ho paura che questa maschera prima o poi cada e cadendosi i spezzi e mi lasci scoperto e quindi faccia cadere tutto quello che io ho costruito. Preferisco in realtà partire molto più lentamente, ma far vedere un'immagine di me dove qualunque cosa io faccia, qualunque errore io faccia, le persone mi conoscono per quello che sono, cioè con i pregi e soprattutto con i difetti. E infatti è quello che è successo, la paura che io ho, questa caduta di stile e di maschera, è quello che è successo nei discorsi giorni a Monica Cirinna. Forse avete visto la problematica di cronaca che l'ha vista coinvolta, cioè il ritrovamento di parecchie migliaia di euro nella cuccia del cane di una delle case, la denuncia ovviamente di tutto questo e tutto quello che ne è venuto fuori. Se ancora oggi andate sulla pagina Facebook di Monica Cirinna trovate decine se non centinaia ancora di sbeffeggi, di commenti che dicono, questo era il cane, che dicono vorrei essere il tuo cane o anche solo icone di cane, bau bau, cose che ci vorranno mesi per togliere, forse non si toglierà mai più dai cliché. In mezzo a tutto questo Monica Cirinna rilascia un'intervista, nel momento sbagliato e forse con l'umore sbagliato, perché? Perché in questa intervista non esce particolarmente bene. Parlando della domestica che se n'è andata durante il periodo estivo e dice ero già nei pasticci di mio nelle ultime settimane, pochi giorni di ferie, cinque per la precisione, sto facendo la lavandaia, l'ortolana, la cuoca. Tutto questo perché la nostra cameriera, strapagata e messa in regola con tutti i contributi Ips, ci ha lasciati da un momento all'altro. Volete sapere il motivo? Mi ha telefonato un pomeriggio, e mi ha detto di punto in bianco, me ne vado perché mi annoio a stare sola col cane. Ci sono una serie di errori tattici in questa comunicazione che probabilmente vedete anche voi, non c'è bisogno della mia competenza o che qualcuno vi racconti. Dall'impostazione lavandaia, ortolana, cuoca, eccetera, fino a professioni di un lessico quasi verdiano e sì, ciao, verdiano, vergiano, di vergiana memoria. Non solo quello però, c'è un'altra parte ancora peggiore, strapagata, e vorrei vedere che cosa vuol dire, e messa in regola con tutti i contributi Ips, come se fosse una cosa strana, da fautrice di quella sinistra che la vede come la normalità, da feroce oppositore di tutte quelle che sono le discriminazioni, scriverlo così e raccontarlo così sembra proprio il fatto di dire un regalo che si fa alla domestica e non certo un diritto della domestica stessa. Se ne accorge dell'errore? Assolutamente sì, se ne accorge ma è troppo tardi, è troppo sbagliato, tant'è che la sua risposta la trovate qui nel tweet, quando si sbaglia ci si scusa, mi scuso quindi per le parole errate usate in questo momento difficile, per dire che senza l'aiuto prezioso la nostra collaboratrice ho avuto difficoltà, già qua passa da cameriera a collaboratrice, in cui il collaboratore alla nostra azienda si avvale dell'ottimo lavoro di tanti senza i quali si complica, già vi accorgete della differenza. Dall'altra parte la cameriera, un termine molto diverso, un termine che posiziona anche, da un punto di vista pratico, questa persona in una posizione di inferiorità, almeno percepita. Il fatto stesso di poi chiamarla collaboratrice cambia. Trovate anche un altro errore, vi ricordate, ve l'ho detto più volte, come si fanno le scuse mi dispiace, è colpa mia, ecco cosa ho intenzione di fare per rimediare, qui non c'è il mi dispiace verso la persona. C'è una sorta di obbligo, come se qualcuno mi avesse forzato a una sorta di dovere morale, di dover dire qualcosa per più o meno scusarmi, non c'è è colpa mia, perché si tende a togliere la responsabilizzazione, anzi al contrario, si dà la responsabilità al momento difficile e non a me stesso, come se fosse una scusante per un sentire che non è un errore di pronuncia, non è un errore pratico, è un errore ideologico di posizionamento dell'altra persona come inferiore a te e tu superiore, tant'è che hai la cameriera come i nobili di una volta e non c'è niente per rimediare, anche solo il fatto di dire mi sono già scusata con la persona per le parole profuse e che ne so, ci siamo chiarite eccetera, le chiedo scusa. Tutto questo non c'è. E non è una cosa da poco, perché per una persona che si occupa come la cerina di diritti e di non discriminazione, questo rappresenta forse la peggiore discriminazione che può fare quella sulla base di cast. E non è una cosa da poco, anzi tutt'altro, perché? Perché non è uno sbaglio, in realtà è una sorta di sincera espressione di distanza che c'è tra lei e la cameriera, ma implicitamente anche tra lei e chi vuole o chi pretende di rappresentare. Quella ignoranza che può essere da un punto di vista di orientamento sessuale, che può essere da un punto di vista di minoranza etnica, religiosa, non importa, che però in questo momento viene, si sentirebbe, si deve sentire, sminuita anche in quel caso. La posizione di eroe, di paladino, senza macchie e senza paura, che la cerina ha assunto dall'alto logoscranno nel corso di questi ultimi anni, ha ragione perché ha fatto cose egregie e meritorie, non collima con un'immagine reale, a quanto pare, della persona. La maschera, quella tra le dramatis persone che interpretava, è caduta e abbiamo visto un po' della persona che c'è sotto la maschera e sono tanto, tanto diverse, tanto da pregiudicare anche la fiducia che io posso mettere nelle mani di questo tipo di persone. È la distanza che c'è tra ti lava, stira, pulisce, di chi vive la normalità quotidiana di tutte queste azioni e chi invece le sa più o meno per sentito dire, no? Con pathos è, con tantissimo pathos e sentimento, ma senza esperienze dirette ed è un divario che è irrimediabile nella realtà. è la definizione, in realtà, alla francese della gauche caviar, quelli che in Italia si chiamano radical chic e niente meglio dell'esemplificazione proprio di questo, di questo racconto, di questa comunicazione, è proprio quanto di più vicino c'è all'idea stessa di radical chic. E sarà un problema, sarà un problema non per poco, sarà un problema per mesi se non per anni, verrà ritirato fuori ogni due per tre. Perché quando cade la maschera le persone perdono la fiducia e quando si lascia la possibilità di perdere la fiducia, beh, all'interno di quella breccia di fiducia si incunea, si infila, spesso con un piede di porco, chiunque, beh, voglia in qualche modo approfittarne e attaccare la mia persona. Ce ne sono tanti di attacchi a migliaia, ne ho visti già adesso, continueranno e in un certo punto di vista, a seconda, con i toni corretti, senza sbucolare all'interno degli insulti, sono corretti. La mia reputazione si fonda su quello che faccio e quello che dicono di me. Quello che dicono di me può essere reale, cioè può essere qualcosa che ho fatto, meritorio può essere costruito. Nel caso io lo costruisca devo stare molto 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 attento, perché più è complesso il castello di carte che io vado a creare, più uno starduto, un alito di vento, un momento di distrazione in cui non ho la mano così ferma come con tutte le altre carte, lo può far crollare. E in questo caso, secondo me, tanto 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 è stato perso per Monica Cirinna. Da un certo punto di vista, l'idea di idealizzarla e paladinizzarla ha fatto in modo che tanto si perda, tanto tanto, anche per le battaglie che Monica Cirinna segue. Perché me lo aspetto adesso, ogni volta che si dice, ah ma l'ha detto anche la Cirinna, chi? Quella che non fa la cameriera? Quella della domestica? Sì, è un attacco che un po' tutta la comunità dovrà portarsi dietro. Risolibile? Assolutamente sì. In questo modo e con questo tipo di scuse? Assolutamente no. Le scuse sono sentite, con responsabilità, con partecipazione al dolore e non certo, semplicemente usate così. Per pararsi un po' la schiena in modo, mi perdoni Monica che stimo tantissimo e lo sa, ho parlato anche col suo staff per quello che fa, in modo davvero così maldestro e senza un buon consiglio magari su come comunicare efficacemente anche durante una crisi. E voi? Cosa ne pensate? Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Sono stato troppo impietoso? Non abbastanza impietoso? Raccontatemelo qui sotto e condividete questo video, se volete, con le persone che potrebbero commentarlo insieme a me e insieme a voi. Io sono Matteo Flora, arrivo dalla sicurezza informatica, ma vengo in pace nella vita di tutti i giorni e mi occupo proprio di questo, di migliorare, aumentare o gestire strategie basate sui dati per la reputazione. Lo faccio con le aziende che trovate qui in basso. Se volete contattarmi avete l'indirizzo di lì, per il resto vi consiglio, se vi piacciono video di questo tipo, ne faccio uno ogni giorno, di seguirmi sul canale YouTube, sul canale Telegram, discutiamo dell'argomento e c'è, se volete, anche una newsletter e un corso in cui tenervi aggiornati su tutto questo. Per il resto invece vi racconto 5 giorni alla settimana in Ciao Internet, algoritmi e regole che governano macchine e umane per capire come, anche in questo caso, la rete, come la usiamo e come parliamo in rete, spesso ci cambia e come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed è stato preparato.